salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi vi farò vedere la codifica di come si attiva il fin di nebbia in svolta cioè che nel momento in cui non andiamo a girare o a destra o a sinistra si accendere di seguito anche il fin di nebbia se giriamo a destra si accendere il fin di nebbia di destra se giriamo a sinistra si accendere il fin di nebbia di sinistra così da questa posizione qua ci permette e adesso ho messo giusto per farvi vedere uno specchio verso il fin di nebbia così da farvi vedere che nel momento in cui mi vado a girare a sinistra si accendere fin di nebbia di sinistra e così viceversa questa posizione qua ci aiuta alle basse velocità che si attiva solo le basse velocità con i fatti accesi per la svolta e farvi un esempio in un parcheggio buio entrare in un cancello in un portone dove la luminosità è poco così che accendendo anche dal lato in cui andiamo a sterzare il fin di nebbia ci illumina di più quella svolta la per attivare questa funzione qua è semplicissima adesso vi farò vedere tutta la la procedura come sempre abbiamo bisogno del nostro vcds e quindi anche del cavo bag collegato alla macchina come sempre io vi ripeto ogni volta di fare prima una piccola scansione della macchina in questo caso parliamo di un audi a1 una 8x del 2015 facciamo la scansione tutte le centraline io in questo caso non la faccio perché già l'ho fatta prima così da non fare il video un po troppo lungo usciamo una volta fatta tutta la scansione ci dirà sicuramente si sta con la macchina qualche allarme qualche anomalia cancelliamo i guasti usciamo e andiamo in selezionare una volta per tutte le centraline selezioniamo la centralina che a noi ci interessa in questo caso parliamo della centralina un attimo ragazzi eccola qua perfetto la centralina nuova eccola qua perfetto andiamo in codifica lunga perfetto e andiamo nel byte 14 vediamo 10 13 e 14 perfetto una volta qui andremo a selezionare questa casella qua bit 7 perfetto luce di svolta statica per anteriori fare antinebbia attiva ok usciamo confermiamo questa codifica abbiamo appena effettuato codifica accettata usciamo da qua usciamo da qua e usciamo dalla centralina eccola qua per vedere se è stata attiva è semplicissimo accendiamo la macchina perfetto accendiamo i fari perfetto e girando a sinistra se accendere finirebbe di sinistra eccolo qua vedete finirebbe di sinistra così viceversa girando a destra e girando a destra a destra non lo vedete perché non si vede comunque finirebbe di destra e si spegne questo qua di sinistra vedete perfetto guardate sinistra ok perfetto questa funziona qua a noi ce la dà anche se mettiamo la freccia che nel momento in cui andiamo a accendere la freccia giustamente se siamo in incrocio o siamo in semo però nel momento in cui accendiamo la freccia si accenderebbe anche il fin di nebbia e così viceversa togliamo la freccia si spegne il fin di nebbia e così si accende a destra adesso vi farò vedere adesso è acceso la freccia di destra e quindi si accende anche il fin di nebbia perfetto di destra vedete ok adesso vi faccio l'altra volta tolgo la freccia metto la freccia a sinistra il fin di nebbia di sinistra perfetto con la freccia di sinistra attiva il fin di nebbia di sinistra o anche basta girare a sinistra si riaccende tolgo e si spegne perfetto questa funzione qua come vi dicevo ci aiuta a entrare in un parcheggio scuro in un portone buio o in qualche parte diciamo che non si riesce bene a vedere quindi ci aiuta a fare questa funzione qua ok ragazzi sono tutte attivazioni comunque abbastanza facili da fare l'unica cosa che vi consiglio sempre di seguire bene attentamente i miei video così da non sbagliare o da attivare una cosa per un'altra perché è facile attivare ma è anche molto facile sbagliare ok ragazzi con questo è tutto spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella così da essere sempre aggiornato sui miei nuovi video condividete il video e se vi fa piacere qualsiasi cosa commentate nel video ok ciao ragazzi al prossimo video ciao